In uno dei luoghi più belli e affascinanti del Lazio, in provincia di Latina, ai piedi dei Monti Lepini, a metà strada fra il suggestivo borgo medievale di Sermoneta e la romantica Ninfa, c'è l'abbazia dei Santi Pietro e Stefano di Valvisciolo. È situata a 104 metri di altitudine, in una piccola valle detta dell'Usignolo, la Vallis Luscinie, da cui probabilmente origina il nome Valvisciolo, anche se secondo altri studiosi il nome potrebbe derivare da Valle delle Visciole, varietà di ciliegie selvatiche presenti nel territorio. La sua costruzione si fa risalire al 700 d.C. ad opera di monaci greci. Successivamente nel 1200 gli storici affermano la presenza nell'abbazia dei Templari. Infine nel 1300 subentrarono i monaci cistercensi, che ancora oggi qui operano e risiedono. Furono questi ultimi che procedettero ai lavori di ristrutturazione dell'edificio, che si può definire di stile gotico cistercense, appunto, con un grande rosone con 12 raggi sulla facciata. Si sa che i Templari, tra le altre cose, curavano i campi, allevavano il bestiame, coltivavano le viti e certamente si dedicarono a tale attività anche nell'abbazia di Valvisciolo. Successivamente i monaci cistercensi dell'ordine benedettino si insediarono nell'abbazia e continuarono quindi la conduzione agricola del patrimonio monastico, impiantando e migliorando le culture in genere e i vigneti in particolari. Visitare l'abbazia e l'area naturale attorno è veramente piacevole e interessante. Si contano circa 57 ettari di terreno pertinenti, in parte boschivi, in parte coltivati a oliveti e per circa 6 ettari, in continua espansione, coltivati a vigneti. Si parte quindi da circa 100 metri sul livello del mare, sotto la catena dei Volsci-Lepini, nel versante pontino lato martirreno, fino ad arrivare a 600 metri. Dall'abbazia si apre un panorama meravigliosamente sorprendente, che spazia su tutta la pianura pontina, un tempo paludosa, fino alla costa e al promontorio del Circeo. Il paesaggio intorno all'abbazia è collinare montuoso, con suoli calcarei e con un clima favorevole, in quanto il monte, che la sovrasta, funge da protezione contro vento e aria fredda, proveniente dal monte Semprevisa, e inoltre l'andamento collinare permette la giusta esposizione solare dei filari. Da secoli quindi, nei campi dell'abbazia, si produce un vino davvero esclusivo, il Valvisciolo Merlot, ancora oggi piantato dai monaci cistercensi, che ha viti di 60 anni di età, ma anche più vecchie, che conservano nel loro DNA i geni dello stesso vino che producevano i templari, un Merlot ormai autoctono, perfettamente integrato in quel terreno, in quel clima e in quella zona. È padre Tommaso che da vari anni si occupa dei terreni coltivati a viti, ed è lui che, con grande entusiasmo, mostra i vigneti dell'abbazia. Fortunatamente il clima è moderatamente continentale, perché mitigato dalla vicinanza del Martirreno, che sta a circa 15 chilometri, ed è caratterizzato dalle benefiche piogge orogenetiche, che si originano a causa del veloce raffreddamento subito dalle masse di aria umida marina, che superano il monte Semprevisa. Si è in presenza quindi di escursioni termiche preziose per la viticoltura. I 7 ettari circa di vigneti, come ho detto, sono principalmente coltivati a Merlot, ma da qualche anno anche a Malvasia, Trebbiano e Cacchione Bianco. Padre Tommaso ci tiene a sottolineare che le tecniche di coltivazione della vigna sono rispettose dell'ambiente naturale, per esempio non vengono usati i prodotti chimici. La produzione di vino totale si aggira attualmente intorno ai 40.000 litri annui, che vengono totalmente venduti agli abitanti delle zone limitrofe e l'abbazia. Il Merlot si presenta di colore rosso rubino cupo, con sfumature tendenti al granato, consistente e limpido. L'olfatto è complesso, inizialmente vinoso, poi prevalgono sentori fruttati, amarena, visciola e frutti di bosco, poi si affiancano note speziate di pepe e cannella. Infine un odore animale e di cuoio bagnato. Al palato è piacevole, con una buona acidità e un tannino moderato, ma presente, di trama vellutata. L'odore fruttato che prevale nell'olfatto in bocca sembra dare spazio ad aromi più evoluti e a profumi terziari. Un vino tipico quindi, pulito e veramente gradevole.